buongiorno continua la preghiera di gesù per i suoi discepoli il capitolo 17 di giovanni versetti dall 11b al 19 e gesù è preoccupato di custodire i suoi che rimangono nel mondo mandati da lui stesso a essere testimoni e continuatori della sua missione nel mondo e gesù chiede proprio aiuto al padre per custodire nel suo nome coloro che gli ha dato anche il nome dio padre l'ha consegnato a gesù perché questi possa esserne manifestazione espressione concreta e visibile nel mondo e la chiesa cioè i discepoli del figlio del signore gesù è chiamata a fare lo stesso custodire la chiesa da parte di dio significa abilitarla a essere trasparenza del suo volto del suo nome che è amore misericordia perdono sempre è importante notare che questo stare nel mondo della chiesa dei discepoli è segnato dalla pienezza della gioia quando questi rimangono uniti a gesù la chiesa trova la propria gioia proprio nell'incarnarsi dentro il mondo per poter testimoniare questo amore non è dunque la fuga o il rifiuto la negazione del mondo ciò che dio chiede ai suoi discepoli certamente avere la mentalità di dio significa non essere del mondo nel modo di pensare di amare e di agire ma tutto questo dio lo desidera perché nel mondo stesso ci possa essere la speranza della salvezza che si compie e allora ecco che diventa importante come strumento essenziale privilegiato per testimoniare tutto ciò vivere nella verità la verità non è questione solo di concetti la verità è una cosa che comprende tutta la persona e coinvolge tutte le facoltà perché la verità è gesù stesso come sapremo dal processo davanti a pilato e allora vivere nella verità vuol dire avere pensieri che siano secondo il pensiero di dio vuol dire avere affetti che siano alla maniera di gesù soprattutto assegnati da una fedeltà profonda e da un coraggio di andare anche controcorrente e infine da una volontà che si prende la responsabilità di marcare con azioni concrete ciò che la testa compreso e il cuore desidera la verità allora è la capacità della persona di stare sempre sotto i raggi del sole sotto la luce senza mai vergognarsi né temere di esporsi in quello che si è perché se si è secondo dio se si è alla luce dell'amore se si è consacrati per il bene e la salvezza del mondo come dio padre desidera allora non c'è nulla di cui vergognarsi e nessuno da temere buona giornata